Buongiorno e benvenuti a questo piccolissimo video nel quale volevo presentarvi l'ultimo numero di Astrolabor. Come sapete Astrolabor è un trimestrale indipendente di astrologia ed intorni che è acquistabile su Amazon. Lo potete trovare su Amazon in due formati, uno cartaceo che vi arriverà a casa al costo di 6,24 euro oppure in formato Kindle da scaricare direttamente, la formula che vi aggrada di più. Io ce l'ho in forma cartacea perché poi grazie a Bordoni gentilmente la redazione me lo inviano ogni trimestre, lo inviano tutti gli autori, insomma sono molto carini in questo. Andiamo a scoprire quello che è il numero che potete trovare e acquistare adesso. Come vedete gli autori sono numerosi, tanti nomi che sul panorama italiano si conoscono benissimo. Andiamo proprio a leggere quello che è proprio il sommario della rivista. Il primo articolo è un articolo di astro attualità, riporta quanto sta accadendo a livello proprio geopolitico, l'Ucraina, la Russia, le tensioni di questo momento molto forti e l'Anel Alivaldi Laun ci proprio va ad approfondire dove si annida a livello astrologico il concetto, il senso di crudeltà. Quindi la differenza, la distinzione poi fra crudeltà e propaganda. Abbiamo poi Adriana Rampino Cavadini, i regali di Urano in toro, cose buone e cattive. Che semini ci può lasciare nel bene e nel male, cosa possiamo trarne come lezione? Abbiamo poi un articolo a firma di Laura Malinverni che è proprio di true crime astrologico, ovvero un delitto di cui si è parlato tantissimo, di cui si sono occupate anche tantissimi proprio programmi, approfondimenti che si occupano di tematiche di questo tipo, un assassinio di Liliana Resinovic che è avvenuto proprio poi nella mia regione in Friuli Venezia Giulia e a distanza di mesi ci sono tante ipotesi ma ancora non è neanche stato dimostrato se si tratta di omicidio o suicidio. Pare però a oggi passare l'ipotesi del suicidio ma con tantissimi tantissimi dubbi. Laura Malinverni nell'articolo ci propone sia il tema natale di Sebastiano Visintin sia quello della stessa Liliana Resinovic ed è anche, sono entrambi anche domificati con orario quindi di nascita recuperato. Abbiamo un triangolo, questa signora, il marito, l'amante, vi leggo solo tre righe per farvi un attimo incuriosire, l'articolo è veramente molto interessante. Nella sinastria di Liliana con il marito cade subito l'occhio su Marte Plutone di lui in dodicesima di lei con Plutone molto vicino all'ascendente della moglie e Marte congiunto a Urano di lei. Quindi insomma sollecitazioni molto forti. Si tratta di collocazioni insidiose e ambivalenti perché tendono a non agire alla luce del sole per casa, per pianeta, anche se il contatto Marte-Urano è potenzialmente in sé esplosivo. Insomma adesso non vi leggo tutto l'articolo, è lungo, è dettagliato. Abbiamo poi un articolo di Mario Viterbi sulla potenza dei pianeti, è la quarta parte, le altre parti le trovate nei numeri precedenti della nostra rivista che sono sempre acquistabili ovviamente in ogni momento dell'anno su Amazon. Abbiamo poi un articolo di Irena Mancini sul su Anna Janovic, la campionessa serba cresciuta, è un ex tennista, cresciuta fra le bombe. Per la rubrica astromitologia la quarta parte dell'articolo miti e simboli dello zodiaco per coppie opposte e complementari di Mario Zoli. Mario Zoli è stato ovviamente un astrologo purtroppo non più vivente di cui però volentieri la rivista ripubblica alcuni scritti. Poi un articolo di Enzo Barillà come si conduce una ricerca d'archivio. Sandra Zagatti invece firma un articolo sui bambini dello zodiaco, i bambini bilancia, pace, amore e fantasia, i bambini scorpioni complessi non complicati, i bambini sagittario oltre le colonne d'ercole. Abbiamo poi un articolo di Antonio Capitani molto interessanti perché anche io personalmente uso molto la tecnica che lui racconta in questo bellissimo articolo che è il mezzo punto nei transiti. Abbiamo poi di Paola Pira un articolo sulle signore delle scimmie, sulle ricercatrici che hanno lavorato con i primati. Arriviamo poi a Maria Teresa Mazzoni, Saturno e il viaggio dell'eroe. È interessante perché in questo articolo vengono proprio anche distinte i momenti in cui all'interno del ciclo di Saturno comune a tutti noi ovviamente perché per ognuno di noi a sette anni abbiamo la prima quadratura, 14 l'opposizione e via dicendo. Invece personale è all'interno del ciclo di Saturno a se stesso i momenti in cui tocca i punti cardinali di un tema natale che quindi diventano momenti proprio precisi. Poi abbiamo un articolo di Beatrice Innocenti, Astrum Riddens, di Iulia Polianscaia, nati con Saturno con Mercurio, di Grazia Bordoni, storia di una collana, non una collana gioiello ma una collana di libri, Armenia, che viene rivissuta, rivista da Grazia. Grazia ci ricorda come fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, proprio l'editore Giovanni Armenia permise la pubblicazione di una collana detta proprio Biblioteca di Astrologia. Ve le ricorderete, Armenia erano i libri di Astrologia, penso che ognuno di noi ne ha tanti, con la copertina azzurrina. C'è poi un mio articolo su Elisabeth Kubler-Ross, la disobbedienza della Vergine, come i valori Vergine possono essere a volte sottostimati, malinterpretati, come invece possono avere una forza assoluta anche disobbediente, anche disturbante. Poi di Giacomo Albano, Marte si ferma fra le corna del toro, quindi un approfondimento sull'anello di sosta di Marte, vi leggo proprio poche righe, Marte giungerà alla sua prima stazione a fine ottobre 2022, quando sarà a 25 gradi dei Gemelli e alla sua seconda stazione verso la metà di gennaio a 8 gradi 8 primi dei Gemelli. Nella prima stazione di ottobre Marte si troverà al suo picco di declinazione, più 23 gradi 47, ovvero avrà superato la massima declinazione raggiungibile dal Sole. Questo dovrebbe rendere più forti e potenzialmente pericolosi gli effetti di Marte, specialmente in astrologia mondiale. È ovvio che in questo momento, così delicato, insomma tutto questo può avere un impatto importante. Inoltre, come potete vedere in questa immagine, non la vedete, ma insomma la troverete all'interno della rivista, il pianeta rosso si troverà fra le corna del toro, in congiunzione alla stella Zeta Tauri, detta Alheca. Si tratta di una stella violenta che ha natura a Marte e Saturno. Il 25 ottobre, più o meno in concomitanza con l'inizio del vero e proprio stazionamento, ci sarà anche un'eclisse solare. Poiché l'eclisse avverrà a circa due gradi dello scorpione, Marte sarà in trigono spugno con essa. Tutti speriamo che per quel periodo la guerra in Ucraina sia finita e del resto incidenti ed eventi violenti possono accadere anche in ogni altra parte del mondo. Il fatto è che con una guerra in corso, gli anelli di sosta di Marte non sono mai particolarmente rassicuranti, specialmente quando il pianeta si trova in un asterismo violento come quello delle corna del toro. Quindi purtroppo analisi non semplici. Abbiamo poi anche un altro approfondimento sempre sugli anelli di sosta di Marte anche per la firma di Grazia Bordoni, usi particolari degli Endacraman sempre di Albano. L'astrologia dell'anima di Renzo Baldini, amo sempre moltissimo gli scritti di Renzo Baldini. Vi consiglio proprio l'acquisto di questo libro di di Renzo Baldini, da cui adesso poi è tratto questo articolo, ma insomma il libro è molto completo, si chiama Manuale pratico di astrologia dell'anima. No, questo è Baldini. Vi consiglio l'acquisto di questo libro perché è veramente molto interessante e si intitola proprio Manuale pratico di astrologia dell'anima. Abbiamo poi il Museo Internazionale dei Tarocchi di Giovanni Pelosini. C'è un luogo speciale in Italia, su un'antica via di transito medievale tra Pistoia e Bologna, nel piccolo villaggio di Riola, che è diventato un importante centro di riferimento culturale per gli appassionati di Tarocchi di tutto il mondo. In questo piccolo borgo di montagna, durante il sostizio d'estate 2007, sorse il Museo Internazionale dei Tarocchi, grazie all'iniziativa, alla dedizione e alla determinazione di due grandi studiosi che collaborano insieme dal 1994. Morena Poltronieri ed Ernesto Faziovi. Abbiamo poi a firma di Cristina Hunterberger, Elvis e la sua best girl e infine le facca astrologiche di Sandra Zagatti. Spero di avervi fatto venire gola, come vedete il sommario è lungo e ricco. Se lo desiderate potete quindi acquistare questa bella rivista di astrologia. È un trimestrale, quindi ha quattro numeri all'anno e lo trovate su Amazon. Arrivederci a tutti, buona giornata.